Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo nuovo tutorial vi faccio vedere come ho realizzato la crema di limoni. Vi lascio ora alla sigla! Gli ingredienti che ci occorrono sono 110 g circa di succo di limoni, 100 g di zucchero, 20 g di burro della tosato margarina, 2 uova intere. Verso tutti gli ingredienti all'interno del boccale del bimbi. Se non avete il bimbi potete farlo con una crema classica, sul fuoco. Chiudo e lascio cuocere per 8 minuti a 90 gradi a velocità 3. A cottura ultimata verso la crema ottenuta, che sarà ancora un po' liquida, in un piatto piano o comunque in un vassoio basso e largo, in modo che si possa raffreddare più velocemente e la copro a contatto con della carta d'alluminio. Ho dimenticato di acquistare la pellicola. Quando la crema sarà fredda la verso in un contenitore ermetico, così posso conservarla in frigorifero per non più di tre giorni. Ed ecco la mia crema finita. È pronta per essere impiegata in un'altra preparazione. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video. Iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi super video velocissimo. Mi è arrivato questo pacchetto. L'ho aperto perché non sapevo che ci fosse il mitente.